L'emergenza di questi giorni ha riportato d'attualità il problema della strada della Cunella. Tra l'altro nei giorni scorsi è apparso sulla stessa strada anche l'invito ad asfaltare il tratto sul comune di Villadogna in evidenti condizioni di degrado. Anzitutto, Sindaco, qual è il problema? Perché non si riesce a sistemare questa strada? Quali interventi bisognerebbe realizzare? Evidentemente l'impatto visivo è quello dell'asfalto perché transitando con l'auto è quello che appare più evidente. Da quando mi sono insediata io come in stazione mi sono trovata comunque un progetto che per il momento non si riesce a finanziare soprattutto per la messa in sicurezza della strada. Sia a monte che a valle della strada non per niente c'è un divieto di transito dei mezzi pesanti proprio perché strutturalmente ci sono da fare dei lavori di sostegno della strada. Quindi l'asfaltatura sarebbe l'ultimo intervento da fare però è quello che è stato evidenziato purtroppo in questi due giorni di chiusura della strada provinciale in occasione dell'evento dell'incendio per la parte sovrastante della via provinciale. Per cui l'amministrazione comunale di Viladogna per noi risulta essere un intervento prioritario assolutamente. Non per niente ce l'hanno ricordato con la scritta Asfaltatela di pochi giorni fa e noi ci stiamo premurando. Già dall'anno scorso abbiamo chiesto interventi agli organi sovracomunali. Per il momento non ci siamo riusciti a spuntare dei finanziamenti. Speriamo che con la dimostrazione purtroppo del disagio che si è venuto a creare proprio in questi due giorni di chiusura della strada provinciale soprattutto per i comuni dell'Alta Valle perché per quanto ci riguarda per noi è una strada di collegamento tra Viladogna e Dardesio. È invece fondamentale come alternativa agli eventi che possono verificarsi sul provinciale. Quindi in questo momento è soprattutto un problema di mancanza di risorse. Sì, Viladogna deve sottostare come tutti i comuni al patto di stabilità quindi qualsiasi avanzo di amministrazione non può essere per il momento rivolto a questo intervento. Stiamo cercando di trovare dei margini all'interno del bilancio. Speriamo che le promesse da parte di un organismo sovracomunale vada in porto in maniera che ci permetta almeno di una prima asfaltatura strutturale per quanto riguarda la strada per cercare di evitare qualsiasi pericolo soprattutto anche ai ciclisti che a volte passano, anche solo i pedoni. Per quanto riguarda l'Alta Valle è una bella bretella perché ci sono tanti automobili che passano, che scendono dalla valle o ritornano per cui è fondamentale. In questi giorni le code che si sono verificate dimostrano comunque l'importanza di questa strada.